Nella biografia privata di ciascuno di noi c'è un percepito, ovvero quello che abbiamo dimostrato di saper fare e un desiderato, ovvero quello che avremmo voluto veramente mostrare di saper fare. Le due cose talvolta coincidono, talvolta si ostacolano, altre volte trovano la forza di imporsi una sull'altra. Ma quello che conta oggi è che alla fine prevalga la sincerità, l'autenticità. Conta a mostrarsi per quello che si è senza fraintendimenti. Gabriele, tocca a te. Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al ventuno del mese i nostri soldi erano già finiti. Mi ricordo mia madre e rivedo i suoi vestiti. Il più bello era nero, con i fiori non ancora appassiti. E davanti alla scuola i ragazzi vendevano i libri. Io di sparte li guardavo cercando il coraggio per imitarli. Poi da solo tornavo a giocare con la mente i suoi tarli. E alla sera al telefono tu mi chiedevi perché, perché non parli. Mi fermo qui perché non so più che anno è e neanche che giorno è. È passato tanto tempo. Gabriele Salvatore finalmente nella sua vera dimensione.